Buon pomeriggio a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa. Salve mister, domani contro l'Atalanta sarà la sua 200esima panchina in Serie A, che sensazioni prova la vigilia di questa partita? Se non l'avesse scritto voi non l'avrei saputo, devo essere sincero, non ci ho mai pensato, è un bel traguardo ma cerchiamo sempre di migliorarlo. Mi auguro che sia una festa in questo senso, che la cosa più importante della mia 200 panchine è che possa vincere la Roma, credo che sia la cosa più importante. Buon pomeriggio mister, nella scorsa stagione la Roma perse con l'Atalanta in casa, quali errori commessi quella sera la Roma non dovrebbe rifare domani? Parliamo di una partita giocata più di sette mesi fa, per quello credo che non abbia senso andarla a riprendere, anche come valutazioni, però sappiamo benissimo che è una squadra che sa quello che vuole, che ha fatto molto bene anche in Europa League in questo periodo, ha fatto già sette partite importanti rispetto a noi dal punto di vista generale, ha giocato col Copenaghen, meritava nettamente la vittoria pareggiata 0-0, credo che affrontiamo una squadra che sa quello che vuole con un'ottima allenatore. Mangiante Sky Sport. Buongiorno, eccoci qui. Voglio sapere se era possibile, se sarà convocato Strootman e cosa pensa della trattativa in corso per la sua cessione. Ma io penso che Kevin, come sapete meglio di me, c'è questa trattativa in corso, è una valutazione che stanno facendo le parti. Oggi lo vedrò all'allenamento e valuteremo insieme quello che sarà il da farsi, anche per vedere la condizione psicologica. Già sapete benissimo come la penso io, è successo già con Dzeko in passato. Per quello, al di là della disponibilità mentale del giocatore, per me sarà convocato in questo senso. Poi è ovvio che le convocazioni le vedrete dopo e capirete cosa avremo scelto insieme. Rimanendo su un altro olandese, cioè Klaivert, che veramente ha pressionato tutti nella partita di Torino, lo sapete se stavolta è pronto per partire dal primo minuto? No, lui è pronto per partire dal primo minuto, è pronto per entrare partite in corso. Credo che un ragazzo debba fare ancora un percorso di crescita. Però ritengo che si stia adattando benissimo a questo calcio, partendo dagli allenamenti che sta facendo, con grande attenzione e applicazione. So benissimo che è una pedina che posso sfruttare sia a partita iniziale che a partita in corso. Valuterò quello che sarà il suo utilizzo tra oggi e domani. Però potrebbe, come ho detto io, tra quei giocatori in bilico da poter giocare dall'inizio o a entrare a partita in corso. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Io invece volevo sapere in settimana è stato provato anche Pastore alto a sinistra. L'abbiamo visto lì anche nell'ultima parte della partita di Torino. Può essere una soluzione diversa? Sta lavorando anche su questa mossa tattica, anche per il futuro? Sì, è una valutazione che sto facendo. Non è una sorpresa, nel senso che sapevamo che lui poteva giocare in quel ruolo lì. L'avevo fatto già magari in altri allenamenti. L'ho provato anche domenica. Potrebbe essere una soluzione, o in mezzo al campo o da esterno-sinistro. Poi facevo anche una considerazione del ruolo di mezzala anche nella partita di Torino. Se voi andate a vedere i dati generali, è un giocatore che ha svariato più dietro le punte che è da mezzala classica. Ma la cosa più importante, siccome parliamo solo di numeri, no? Noi abbiamo Pastore che è un giocatore che principalmente ha qualità. Qualità tecniche elevate, capacità di dribbling, capacità di assist che si sono viste pochissime a Torino. E lo sa benissimo anche lui. Per quello ci aspettiamo un Pastore che abbia maggiore qualità in quello che va a fare. Al di là del ruolo, perché io lo posso mettere anche a fare l'attaccante centrale o il terzino. Però su sette palloni, me ne sbaglia cinque, cambia poco il ruolo, credo. Credo che sia più importante che lui adesso con questa continuità, giocando tanto, riacquisti quella qualità, quella serenità di scendere in campo e mettere al servizio delle altri i propri mezzi. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Lei ha schierato Strotman per 90 minuti nella prima partita. Volevo capire la sua opinione sull'eventuale partenza di Strotman. Se l'aspettava un impoverimento eventualmente tecnico? È una cosa che avete concordato con la società? Ma guarda, io credo che questo argomento non può per me essere più importante della partita di domani. Dico solo che è un giocatore che fino a quando è stato con me è stato considerato un giocatore importante come tanti altri. Il fatto di parlare di titolari, sapete che questa cosa a me non piace. Ci sono certe cose che vanno fatte insieme. Per quello credo che questa cosa vada fatta una scelta insieme e il desiderio di tutti di continuare questo percorso. Nella Roma abbiamo in questo momento anche tanti centrocampisti e ognuno poi farà le proprie valutazioni. Dico solo che per me viene prima di tutto la forza della squadra che del singolo. Valdiserri, Corriere della Sera. Buongiorno. Volevo chiederle, l'anno scorso lei ha parlato di specificità di ruoli per cui giocatori adatti soprattutto con un'idea già chiara di dove mettere. Quest'anno ci sono un numero di giocatori che mi sembra siano abbastanza difficili da inquadrare. Uno è Pastore, Cioric per esempio lei l'ha provato più alto anche se poi è un ruolo che credo che non abbia mai fatto in carriera. Zaniolo non l'abbiamo ancora visto però tendenzialmente un trequartista. È cambiato qualcosa in quello che lei vuole dalla squadra per cui vanno bene anche giocatori che non hanno un ruolo specifico? Su Pastore per esempio lei l'altra volta ha usato il termine rifinitore, per non usare trequartista. Questo è un suo pensiero il fatto di parlare per una mezzala quando si trova tra le linee cosa deve fare? Deve rompere il pallone o deve cercare di andare a rifinire un qualcosa per cercare di mettere qualità? Io ritengo che per avere maggiore qualità e quella che a volte ci è potuta mancare nello scorso anno ci vogliono dei giocatori che abbiano determinati mezzi tecnici. Pastore è uno di questi, Cioric è uno di questi. Il fatto che Cioric non possa giocare a sinistra non è vero perché quando c'è un giocatore che ha determinate caratteristiche e ne ho visti tanti diventare da trequartisti esterni, è un giocatore che alla fine viene a giocare tra le linee che sia a destra che sia a sinistra predilige prendere la palla in una certa zona di campo. Ci sono dei trequartisti molto più bravi a prendere palla tra le linee i Mancini essendo destri a sinistra e i Mancini solitamente a destra. Però alla fine sono dei giocatori che partono un ruolo e poi vanno a determinare di più da un'altra parte. Rifinitori, trequartisti, chiamiamoli come volete. Quello che è la ricerca e quello che vorrei io è che dessimo maggiore qualità a questa squadra per cercare di concretizzare al meglio tutta quella grande mole di gioco che facciamo. E questa è un po' la ricerca, non che non ci siano errori specifici. Per quanto riguarda Zaniolo, vi assicuro che è un giocatore che può fare benissimo la mezzala, ma una mezzala, e l'ho dimostrato negli anni, il vecchio perrotta, ve lo ricordate, nella Roma, era un centrocampista, una mezzala, un mediano, è diventato un ottimo trequartista con cosa però? Non tante caratteristiche o qualità tecniche principali importanti, ma grande capacità di inserimento. In questo caso sto cercando di mettere dentro dei giocatori che abbiano anche l'ultimo passaggio come qualità importante. Lo Monaco e il Romanista. Io voglio sapere, anche alla luce delle prime partite viste, se ti stai facendo un'idea di dove si può collocare la Roma, non ovviamente come obiettivo, perché l'obiettivo è concorrere il più possibile immagino, ma la Roma farà un gran campionato se... Questa è la domanda che ti vorrei fare, anche il rapporto alle altre squadre evidentemente. Ma questo è prematuro per dirlo, però il fatto che abbiamo costruito la possibilità di aver lavorato insieme con tanti giocatori per un anno, avendone messi tanti nuovi, ma avendo avuto quest'anno la possibilità di fare un ritiro continuo, e lavorando non solo tecnicamente o tatticamente, ma anche fisicamente, mi auguro che questa squadra possa avere solo grandi margini di crescita, e di questo ne sono convinto. Riprendo sempre come riferimento Pastore, che è uno di quei giocatori che uno se lo valuta e guarda la partita, perché magari ha sbagliato tanto, può pensare, ha corso poco o ha fatto poco e niente. Fino al 75esimo è il giocatore che ha percorso più metri di tutti, i giocatori in campo, e in più con una qualità alta di velocità. Voi mi dite, mister, ma cosa stai dicendo? Io purtroppo, a differenza magari vostra, posso avere determinati dati, e ve li do per dire, no, che a questo giocatore in questo momento manca quella che è la sua qualità migliore, e sono convinto che la ritroveremmo prima possibile. Austini, il tempo. Salve, buongiorno, mister. Per aiutare a fare un po' di chiarezza, lei conosce bene la città e si parla in queste ore moltissimo di Strotman, quindi mi scusi se torno su questo. Come si può passare in una settimana da considerarlo un titolare per lei, perché lei lo inserisce in una formazione della prima giornata, tenendo comunque in panchina calciatori importanti, ha addirittura che per lei non cambia, sembra nulla se parte con un mercato chiuso, perché poi la differenza sostanziale di questa cessione rispetto alle altre, se si farà, è che la Roma non lo può sostituire fino a gennaio. Com'è possibile? Perché questo si fatica a capire. Cioè si passa da Strotman, uno degli undici migliori in quel momento della prima giornata, a giocatore sacrificabile? Guarda, io ho fatto una scelta anche l'altra volta legato al centrocampo col Torino, dove meritavano anche in tanti di giocare. Però sapevo benissimo che avevo altre partite e ci sono altre cose in cui puoi avere fatto magari altre scelte. Credo di far sentire e voglio far sentire tutti quanti importanti in questo momento, compreso Kevin che ha giocato la prima partita da titolare. Però a volte ci sono delle situazioni che vanno lette in maniera un po' a 360 gradi, che mettono dentro il calciatore, la società e poi quello che posso pensare anch'io. L'interesse è avere tutti quanti i giocatori che abbiano anche un po' il desiderio, no? La domanda è via. Ritengo che io faccio l'allenatore e in questo momento, prima di tutto, viene, l'ho detto prima, l'importanza che ha la squadra, che ha la Roma in questo caso, anche in riferimento a Kevin. Trinca, Telera di Asteri. Salve mister. L'ingresso in campo di Brian Cristante ha velocizzato il gioco della Roma a Torino. E volevo chiedere se ha chance domani per giocare titolare e cosa può dare un calciatore come lui in una sfida come quella contro l'Atalanta, con una squadra molto in forma? Beh, sicuramente ha una grande condizione fisica. Veniva da una squadra dove gli allenamenti erano fatti ad alto ritmo e si è visto subito appena arrivato. E' un giocatore che abbiamo voluto fortemente e per quello credo che possa ricoprire sia il ruolo di mezzala destra che di mezzala sinistra. Un'alternativa quando si gioca o potremmo giocare 4-2-3-1 anche da trequartista, un po' più come le caratteristiche che ha perrotta qui a Roma. Però credo che ci possa dare tanto dal punto di vista dell'inserimento, della fisicità che in questo campionato è diventato importantissimo. Sono contento di lui, di quello che sta facendo e domani quasi sicuramente sarà titolare. Facciamo l'ultima, De Angelis Redesport. Buonasera, Di Francesco. A proposito di sostituzioni, giocatori che hanno cambiato un po' il corso della partita, uno di questi durante l'esordio è stato Klaivert. È lui il più pronto per ricoprire il ruolo di esterno-destro nel caso non dovesse essere disponibile Under? Attualmente è quello che si adatta meglio di tutti quanti i miei giocatori nel ruolo di esterno-destro. L'ha fatto anche Stefano e Sharawi in passato e anche bene, se vi ricordate, col Celsio e tante altre occasioni. Però in questo momento il giocatore che vedo, tra virgolette, come sostituto a destra di Under, però per lo meno che può giocare al posto di Under, è lui. E lui con caratteristiche diverse, molto più bravo ad attaccare la profondità, magari meno a venire tra le linee perché questo un pochino gli manca ancora. Però sì. Grazie. Ciao.